Lunedì 27 giugno, Luca 6, 1-5 Lettura del Vangelo secondo Luca Un sabato, il Signore Gesù passava fra campi di grano e Suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero, «Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?» Gesù rispose loro, «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti?» E diceva loro, «Il figlio dell'uomo è Signore del sabato». Le domande dei farisei si ripetono incessantemente e arrivano a sfiorare addirittura la nostra vita, l'oggi. Quante domande ogni giorno ci provocano e ci raggiungono, magari fino in fondo la nostra coscienza. A volte noi siamo turbati dalle richieste e che diventano persino contestazioni. Quando le domande però arrivano a Gesù, Gesù sa farne occasione non tanto di dialogo, ma di annuncio. Quando il mondo ci chiede perché, quando i farisei ci chiedono perché, magari addirittura contestando la nostra fede, noi possiamo fare come Gesù. Possiamo annunciare il Vangelo, certi che il Vangelo è una speranza, è una salvezza che nessun altro può offrire. Il problema non sono mai le domande, anche se vengono dai farisei. Il problema sta nel fatto che immaginiamo di non avere risposte, risposte da offrire, risposte da condividere. Pensiamo di non avere risposte, neanche quando le stesse parole di Gesù sono la risposta che ogni uomo cerca. Buona giornata.